Allora siamo qui nel backstage di questa maratona televisiva e vediamo... Vediamo un po', sono arrivati... è arrivato Samuel Peron e Vicky Marty! Scusate, ecco... Allora, ma io ho una grande idea... Allora, raccontateci un po' questa esperienza di Teleton, è la vostra prima volta qui? No, nel caso mio no, ho partecipato altre volte a Teleton, è un'emozione sempre molto forte. Qual è il segreto per arrivare al vostro successo? Successo? Possiamo dire che abbiamo implicato tanti 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 anni della nostra vita, assieme a sacrifici, assieme a forze e energie, per poter arrivare a ottenere quello che stiamo avendo. Facciamo un appello a favore di Teleton a tutti i vostri fan? Mi raccomando, innanzitutto il 7 di gennaio riprende Ballando con le stelle, quindi mi raccomando, seguiteci e guardateci e sosteneteci. E nello stesso modo, anzi forse un po' in maniera maggiore, sostenete questo progetto che è Teleton, che veramente va sostenuto con tutte le forze possibili. Io sono d'accordo, dobbiamo condividere perché se non ci pensano dall'alto e non mi riferisco a Dio né all'universo, ma mi riferisco a chi lo potrebbe fare e non lo fa, lo possiamo fare noi. Senza fare del moralismo, perché insomma anch'io potrei fare molto di più, mi impegnerò a dare in beneficenza, se così si può dire, magari un centinaio di copie mie vendute, il che non fa la differenza sicuramente. Però per cambiare il mondo bisogna cominciare a cambiarlo interiormente, da dentro noi stessi. Ripeto, non voglio fare il profeta della situazione, però bisogna condividere la parola d'ordine, amore e condivisione. Mi raccomando, Teleton, grazie, grazie, grazie. Allora, ricordiamo che si può donare tutto l'anno collegandosi al sito internet www.teleton.it e novità di quest'anno sono gli eroi di Teleton. Scoprite come si può donare divertendosi collegandovi al sito internet www.teleton.it Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.